ciao amici di aurora channel in questo video apriremo la terza cameretta dei lego friends questa è la cameretta di nova questa è la cameretta di ayla ma zucca questa non è la tua cameretta tu sei stai qua apriremo la cameretta di leo e ola e si questa vedete amici loro giocano a calcio fanno i gelati hanno il letto a castello e hanno un gatto che ce la faccio un po arrabbiata e hanno il materiale per postare i video sui social iniziamo il montaggio io è pronto guardate ho costruito il gioco per il gatto che qua dietro c'è il pallino che voi fate roteare e il pesce devo cercarlo di prendere il gatto che si chiama ciurro è un po cicciutello questo gatto guardate leo va a letto oppure sale gli scalini e va in un altro letto oppure si butta per giù direttamente e poi se vuole andare nel balconcino apre la porta scorrevole va nel balconcino chiude qua c'è la la maschera da sub un fiore e un tè forse un sacchetto finito adesso apre il secondo e continua ho montato ho trovato anche la palla con cui giocano al calcio però è arancione la cameretta di leo e holly è finita qui c'è il loro gatto che ha questo giochino col pesce poi qui fanno i gelati poi qui ci sono dei cuscini il libro di ricette e la postazione per fare video da postare su internet qua c'è il mangiare per il gatto poi qua c'è il tappetino di calcio qua c'è la macchina fotografica la lampadina il giubbotto di salvataggio delle fotografie un letto a castello una tavola da surf e poi se andiamo qui apriamo la porta scorrevole personaggi possono uscire c'è una tisana il banconcino e una maschera da sub e un fiorellino poi qui arriviamo alla postazione con anche il cappello da chef due due bevande e un pallone arancione che possiamo giocare a calcio e tirare nella porta amici abbiamo finito tutte e tre le camerette che abbiamo costruito in altri video c'è la cameretta di leo e holly qua di nuovo è Jack e qua la cameretta di Ayla con il suo cane diventa un condominio di camerette se questo video vi è piaciuto lasciate like al canale iscrivetevi e ciao